Terzo giorno di ribassi consecutivi sulle borse e tre giorni di ribassi di solito sono un segnale abbastanza negativo, ma come mai? Cos'è cambiato realmente? La risposta breve è nulla, a tutti gli effetti la situazione è esattamente la stessa di tre giorni fa, non è cambiato assolutamente niente. C'è stato però nel frattempo l'intervento di Jerome Powell, presidente della banca centrale americana, che ho avuto il piacere di vedere in diretta e ci sono un po' di cose interessanti da dire. Inoltre vorrei anche approfondire con voi il discorso sulla disoccupazione, perché ho notato che è stato trattato forse in modo troppo semplice e abbastanza slegato dall'economia reale. Ma prima, sigla! Benvenuti a tutti in questo nuovo video, io sono Pietro e prima di tutto grazie, davvero grazie a tutti quelli che sotto l'ultimo video di questo format mi hanno detto la loro, dandomi un sacco di pareri, un sacco di idee interessanti, anche critiche, perché no? Quindi di nuovo grazie a tutti quelli che hanno speso un minuto del loro tempo per provare a migliorare insieme a me il format. Vorrei rispondere anche a tutti quelli che mi hanno chiesto di aggiungere la faccia a questi video, o che magari erano preoccupati perché magari pensavano che potesse iniziare a fare video solo in questo modo. Non preoccupatevi perché il format prevalente è e sarà sempre quello classico, quindi con me in video che vi parlo perché apprezzo la maggior espressività, ma anche intrattenimento che può dare un video con appunto una persona. Questi saranno solamente i video relativi alle notizie che, come ho spiegato, per ragioni di tempo devo produrre in questo modo, quindi devo ridurre tutto veramente al minimo, quindi audio e foto oppure grafici. Sto anche valutando di caricare questi video come podcast, quindi insomma vi terrò aggiornati anche su questa eventualità. Partiamo con la giornata di oggi che nel momento in cui sto registrando, quindi a borse ancora aperte, è abbastanza negativa, ma è soprattutto la terza giornata negativa di borsa consecutiva, qualcosa che per tutta la ripresa rialzista appunto dell'ultimo mese e mezzo circa non abbiamo mai visto. Ora niente panico perché è troppo debole come segnale, soprattutto se preso singolarmente, ricordiamoci sempre che contano i fondamentali e non certamente una giornata in più di ribassi o una in meno. Di base questi tre giorni rossi non significano nulla da soli, però lo sapete io sono ribassista come visione dei mercati e vedere un segnale del genere insieme ad altri punti mi fa pensare che i ribassi possano essere iniziati, magari in corso o comunque vicini. Non sono l'unico a pensarla così, anche Jerome Powell nella sua conferenza di ieri si è mostrato abbastanza pessimista, non sui mercati ovviamente, non preoccupatevi, ma sull'economia americana, o meglio direi piuttosto si è mostrato realista. Ha fatto notare come l'economia potrebbe essere stagnante dopo una recessione di questo calibro perché certi danni potrebbero essere permanenti. Ha parlato di una produttività a rischio che sappiamo essere il principale aspetto che muove i mercati nel lunghissimo periodo. Se la produttività non cresce, beh, nulla cresce. Ha parlato poi di un tasso di disoccupazione che potrebbe avere il suo picco nei prossimi mesi, magari anche addirittura nel prossimo mese. E questa è un'ottima notizia perché significa che appunto tra un mese o più la disoccupazione rinizierà a scendere. Poi però ha subito aggiunto che la disoccupazione sarà ben sopra ai livelli precedenti la crisi per molto tempo. Disoccupazione che, ricordiamocelo, negli Stati Uniti era praticamente a 0, o meglio, circa il 4%. Dico 0 perché una disoccupazione al 3-4% è fisiologica, non si può assolutamente evitare in dei paesi grandi e strutturati come gli Stati Uniti. Giusto per fare un paragone, in Italia il tasso di disoccupazione pre-crisi era di circa il 10%, quindi più del doppio. Powell ha anche fatto notare che non stanno valutando i tassi negativi, qualcosa di cui si vociferava negli ultimi giorni, anche nelle ultime settimane, ma che è stato subito smentito nelle domande e risposte che si sono tenute successivamente al suo discorso di apertura. Infine Powell ha concluso ricordando che la Fed presta soldi e non li regala, quasi a voler suggerire ai mercati che le aziende che adesso si stanno indebitando prima o poi dovranno restituire questi soldi. Insomma, è stato molto duro e i mercati hanno reagito di conseguenza, iniziando questo ribasso che stiamo vedendo. Voglio però stare un attimo sul discorso disoccupazione, prima di tutto spiegando perché è così importante. Gli Stati Uniti, così come molti altri paesi occidentali, sono paesi che basano la loro economia sui consumi, consumi delle persone. Se le persone non hanno un lavoro o magari hanno uno stipendio più basso, sono in grado di consumare meno o semplicemente potrebbero voler risparmiare di più perché sono preoccupate e quindi queste economie in queste fasi del mercato vanno molto male. Tanti hanno parlato della disoccupazione liquidando però un po' il discorso a qualcosa del tipo, sì adesso è molto alta ma poi sarà di nuovo bassa, certo ma quanto poi? E nel frattempo cosa succede? Goldman Sachs, per esempio, che non è proprio l'ultima arrivata, si aspetta che il 75% degli attuali disoccupati sarà tornato a lavoro entro fine anno. Bella notizia, vero? Assolutamente no. Questo in psicologia si chiama effetto framing. Si pone l'attenzione sul dato positivo, utilizzando appunto le parole positive, o in questo caso il tornare a lavoro, e magicamente il dato negativo, la parte del dato negativa non si nota. Se vi dicessi che entro fine anno il 25%, quindi un quarto di quelli che sono stati colpiti dall'emergenza, non avrà ancora trovato un nuovo posto di lavoro. Beh, così cambia? Eppure è la stessa frase girata al contrario. Ho notato che però questa notizia è passata un po' in sordina e ho letto anche di altri sondaggi fatti appunto sulla popolazione americana e anche in questo caso il dato era più o meno simile, il 75-80% si aspetta di tornare a lavoro e di conseguenza un 20% entro fine anno potrebbe non avere un nuovo lavoro e quindi non essere un grande consumatore. Altro aspetto a cui però sto pensando dall'inizio di questa crisi è le persone, psicologicamente parlando, quindi escludendo il fattore soldi, saranno pronte a spendere come prima nuovamente? Quindi anche magari non avendo perso il lavoro ed essendo nella stessa condizione di prima, spenderanno esattamente come prima? Per quanto mi riguarda non penso che si possano cancellare decenni di consumismo in sei mesi, quindi il grosso delle abitudini consumistiche resterà, ma ci vorrà un po' per tornare a riprendere con queste vecchie abitudini. Dubito fortemente quindi che nessuno andrà più fuori a mangiare per un anno o che nessuno farà shopping, però escludo anche che lo si farà magari non immediatamente allo stesso modo, magari in modo più graduale. Dobbiamo tutti renderci conto che una disoccupazione così alta in economie di consumo, consumistiche diremmo oggi, è la cosa peggiore che si possa avere. E non lo sto dicendo assolutamente per spaventarmi, sapete che non amo il panico e che penso che ogni decisione debba essere ponderata accuratamente. Lo dico però per rispondere a tutti quelli che pensano che la situazione tornerà come prima entro fine anno e che quindi queste rialzi in borsa sono più che giustificati perché il mercato sconta tutto, o meglio così ormai ci hanno abituato a sentire. Potrebbe, e dico potrebbe, non essere così. Io sono di parte e lo sono dichiaratamente, non voglio assolutamente nasconderlo. E anzi, sarò anche sincero con voi, sarei ben felice di sbagliarmi perché significherebbe che le cose vanno meglio di quanto pensi. Però al momento dobbiamo muoverci su ciò che sappiamo o su ciò che realisticamente siamo in grado di prevedere. E secondo me non si prevede sole per ancora un po' di tempo, ma magari assisteremo a ancora un po' di nuvole, un po' di pioggia, insomma, spero che questa metafora meteorologica vi chiarisca un po' come la penso. Ragazzi spero abbiate apprezzato questo video e se si lasciate un bel mi piace qua sotto e iscrivetevi al canale se volete vedere altri video come questo. Inoltre vi ricordo che questo format è ancora un test, quindi se volete continuare a dare dei suggerimenti per migliorarlo insieme a me, scrivete pure tutto qua sotto nei commenti. Quindi per questo video è davvero tutto, io vi saluto e alla prossima! Ciao!